Colpo di mercato per la palacanestro Cantù che dopo aver ceduto il georgiano Marco Isvili ha fatto approdare tra le proprie maglie il capitano della nazionale Stefano Mancinelli e di Denbischi. Dopo aver rimandato di 24 ore la presentazione causa influenza, il capitano azzurro Stefano Mancinelli si è mostrato ai suoi nuovi tifosi di Cantù. Scelta la maglia numero 23, con le due cifre che moltiplicate fanno sempre il suo adorato numero 6, a Cantù ritirato in memoria di Chico Ravaglia, il Mancio si è poi subito messo a disposizione di coach Trenchieri per il primo allenamento. Domenica c'è Sassari dove sembrava destinato ad andare, poi la Coppa Italia nel suo ex palazzetto d'Assago. C'è tempo però per qualche ricordo sia milanese che del suo predecessore Marco Isvili. Non voglio fare polemiche, non voglio che dopo Milano risponda, è successo che in pratica avevo un'offerta, mi era stata fatta, quattro mesi prima della fine del campionato, poi verso la fine questa offerta è stata cambiata, motivi loro, senza polemiche, mi sono sentito di non accettarlo, basta. Marco Isvili è un grande giocatore, ha dato tanto a Cantù, ovviamente io sono qui perché ho un alto ruolo e tutto quanto, però spero di dare un po' di quello che ha dato a lui a Cantù e spero di conquistarmi questi tifosi. Subito parte anche Sassari che mi voleva, anche loro mi volevano, poi sarà Milano, quindi speriamo bene, speriamo di recuperare la forma che voglio di giocare. Abbiamo pensato di prendere un giocatore che potesse darci qualcosa di diverso, ma qualcosa di chiaro, delle qualità, e secondo me il Mancio ha delle qualità. Grazie a tutti.